vediamo oggi come lo ingambera nell'ultimo episodio allora questa settimana come andiamo ma dottore sono sempre insoddisfatto al lavoro ma guardi secondo me lei in questo suo lavoro dovrebbe pensare un po se stesso come come si chiama quel professionista che sceglie i colori le tinte in una stanza il redattore d'interno è il mio lavoro il redattore d'interno come non lo sa glielo ho detto più di una volta durante le sedute ma questa è una grandissima una fortunata coincidenza grazie al suo lavoro noi era possiamo usare la tecnica dell'immedesimazione del training autogeno ma cosa c'entra il mio lavoro ma guardi media reta in questo caso c'entra più il suo lavoro che il mio come se lei fosse una stanza sì sì sono una stanza bianca vuota meglio una stanza arredata piena di cose professionale un po come questa proprio come quella che caso come devono essere secondo lei le tende per lasciare entrare la luce e contemporaneamente riscaldare l'ambiente interno azzurre di cotone si azzurre d'accordo sono 300 di azzurre pastello azzurro pastello si ricorda il codice 67 c1 se a memoria trovato cosa c'entra il codice bella domanda abbiamo trovato il codice cromatico del suo benessere certo a livello figurativo in questa stanza piena di colori pastello se inserissimo magari ecco un vaso che contiene le sue emozioni il vaso no non ho bisogno di sentirmi contenuto non va bene io voglio sentirmi libero a meno che a meno che il vaso non contenga delle orchidee perché le orchidee si sposano bene con il sole le orchidee dano un tocco di eleganza ed ecco qua anche il tocco di eleganza perfetto dottore questo esercizio sull'immedesimazione è fantastico mi sembra anche di di sentire di percepire l'odore dei fiori oggi è stato veramente utile chi lo dice no no stiamo andando alla grande prossima volta sala da pranzo ma che sala da pranzo ma questo va arrestato stiamo andando alla grande lo diceva freud notoriamente